Vediamo cosa c'è di nuovo Cosa? Mia mia ragazzi e benvenuti nel mio canale Io sono Cat4Fan e oggi parliamo di un argomento che mi sta molto a cuore Perché ieri è uscito un articolo sulla Gazzetta dello Sport E che ve lo leggo cita testalmente I videogiochi del momento hanno tutti un open world Cose da sapere sui titoli più venduti Ci si muove senza limiti Gli eroi sono donne o gay E un gioco ha causato anche proteste in Bolivia Ora il resto dell'articolo non è niente di che Parla principalmente di Zelda Breath of the Wild Dicendo banalità insomma abbastanza inutili E fondamentalmente è un articolo che dopo le prime quattro righe Hai già perso l'interesse Ovviamente l'ho letto tutto e sinceramente non è nulla di che Il problema è il titolo Chi ne sa un po' di scrittura o di marketing Sa perfettamente che la gente legge il titolo Legge il sottotitolo e poi si disinteressa 99 su 100 dell'articolo Anche perché l'articolo è scritto secondo me non particolarmente bene Non è particolarmente fruibile E soprattutto una persona che non è interessata ai videogiochi Dopo prime tre righe ha già smesso Però dà un messaggio davvero davvero Orripilante Perché se ci pensate c'è questa cosa del open world Ma voi considerate che chi legge la gazzetta dello sport Generalmente non è un videogiocatore Questa parola open world È un po' strano perché vuol dire mondo aperto E qui dicono oh mio dio Già mette in allarme il genitore medio Che dice open world che cosa significa E poi dici puoi muoverti senza limiti Senza limiti Senza limiti E poi mi dici che tutti sono donne o gay A prescindere dal fatto che Quali donne e quali gay Cioè nel senso Donne sì Quella di Horizon Ok va bene C'è la protagonista di Horizon Poi Lara Croft C'è da boh vent'anni Non mi ricordo quanti anni c'è Lara Croft Ma un sacco Sono veramente pochissime le eroine dei videogiochi E soprattutto quelli nuovi Non potete dire che la maggior parte Siano con protagonisti femminili Perché non è vero Inoltre soprattutto Quali protagonisti gay Se stiamo parlando di Mass Effect Mass Effect ha la possibilità Di avere anche relazioni omosessuali Esattamente come The Sims per esempio Allora in The Sims siamo tutti gay Perché c'è la possibilità di fare Il personaggio gay Ma c'è anche la possibilità di non farlo Di non fare relazioni Cioè non ha senso questa cosa È sinceramente un titolo chiamato Clickbait Oppure un titolo ovviamente per provocare Ma se tu fai un titolo così A portata di tutti Da veramente dei problemi Cioè io ricordo perfettamente Quando ero piccolina Uscì un articolo Che diceva tessuali parole Sailor Moon Fa diventare ragazzi gay Io mi ricordo che uno dei miei più cari amici Guardava Sailor Moon Principalmente perché lo guardavo io E poi perché comunque Gli piacevano le Tette Perché effettivamente Sailor Moon Quando si trasformava Diventava tutta sbrilluccicante C'era questo Miso di silhouette femminile Ora all'epoca Non c'era Tutta questa possibilità Di andare su internet Quindi fondamentalmente Di tette Ne vedeva ben poche Mi ricordo che all'epoca Ci fu questo scandalo E mi ricordo che Fece uno scalpore terribile Tanto che suo padre Gli impedì Di guardare Sailor Moon Perché aveva paura Che chissà che cosa succedesse Lo condizionasse Diventasse Finocchio Mi ha detto io A precedere dal fatto che Nessuno gliene frega niente Se mio figlio è gay Etero Gasessuale O quel che gli pare Piace Perché se ne hanno fatti i suoi A parte il fatto che È da trogloditi Pensare Che una persona Possa essere influenzata Dalla televisione Dalli giornali O dai videogiochi Si riguarda la sua sessualità Perché io credo fondamentalmente Che sia una Se si può chiamare decisione Scelta Ma in verità sia Una cosa assolutamente naturale Che ci viene da noi stessi Detto questo Purtroppo Non tutti Siamo così Averti mentalmente E spesso I genitori Sono preoccupati Perché comunque È una preoccupazione Avere un figlio Gay Nel senso che Nella migliore delle ipotesi Sei preoccupata Che questo Possa avere Una vita più difficile Rispetto a quello Che è Essere Eterosessuale Quindi la Normalità Però c'è da dire Anche che Secondo me Instigare Le persone All'odio In questa maniera È orripilante Ho fatto questo post Su facebook Dicendo anche Non è che se Zelda non gliel'ha mai data Link Vuol dire Che Link È gay Il Link È solo un elfo Anzi In verità è un iruliano Se vogliamo proprio essere pignoli Però elfo Non è gay Detto questo Ovviamente Era una battuta La mia Si sono scatenate un po' di polemiche La maggior parte erano dalla mia parte Ma alcuni Sono stati molto interessanti Perché hanno visto l'articolo In modo molto più tranquillo Rispetto a quello che ho visto io Sicuramente la sensibilità è diversa Io penso che comunque Chi abbia scritto il titolo L'abbia fatto apposta Per creare audience Ma audience negativo E secondo me Chiunque crei audience negativo È sbagliato Perché non sono d'accordo Sul propagare l'odio Secondo me Uno dovrebbe cercare Di fare l'audience Sulle cose positive E non sulle cose negative Tanta gente ha detto Vabbè ma che cosa hanno detto Alla fine essere gay È normale Chi se ne frega Ma c'è Open world È comunque Sono open world Secondo me Si vede sempre Le cose Dal proprio punto di vista Ma ogni tanto Quando si scrive Soprattutto O quando si comunque si comunica Bisognerebbe cercare di capire Che quando uno Pubblica qualsiasi cosa La pubblica al mondo Cioè quindi a tutti Pubblicare cose di questo genere A generazioni come Mia mamma Mio papà Oppure persone semplicemente Meno colte Meno aperte mentalmente Significa davvero Condannare magari il figlio Ad essere guardato Un po' così Perché Gioca ai videogiochi Oh mio dio Mi diventa finocchio È sbagliato Secondo me Anche solo citarla La questione Essere gay O essere donne È la normalità Essere un'eroina gay O essere un'eroina donna O essere un'eroe gay Perché no? Cioè Ma non dovrebbe neanche Essere citato Non dovrebbe nemmeno Interessarci Perché se fosse normale Se fosse come dite voi Assolutamente tranquillo Questa cosa Non dovrebbe neanche Essere citata Perché nessuno scrive Oh mio dio Eroe maschio Avete mai sentito Una cosa di questo genere? Oh mio dio La maggior parte Dei fumetti Ha eroi maschi È mai successo? No Però stranamente Oh mio dio C'è un'eroina femmina Oh mio dio L'eroe gay Cioè Se fosse la normalità Come noi ci auguriamo Che sia nel 2017 Questi articoli Non dovrebbero Nemmeno uscire Se ci sarà qualche genitore Preoccupato Lo rassicuro Non vi preoccupate Vostro figlio Non diventa gay Perché gioca ai videogiochi Probabilmente L'eroina Gli piace Perché ha le tette Come è successo Con Lara Croft E anche se l'eroe Fosse gay Non importa Veramente Non importa Non influenzerà In alcun modo La sessualità Di vostro figlio Inoltre La sessualità Di vostro figlio E' una cosa Che concerne lui Per cui Per favore Abbracciatelo Coccolatelo Qualunque Cosa lui voglia diventare O qualunque cosa Lui sia E' vostro figlio E voi gli dovete Volere bene Perché E' vostro figlio E non importa Se è gay Etero Nero Bianco Rosso Giallo Blu Punk Dark Qualunque cosa Cioè Amatelo Perché E' unico E' il vostro bambino E gli dovete volere Tanto bene E detto questo Io spero che questo video Vi sia piaciuto Avevo proprio bisogno Di sfogarmi con voi Perché E' assolutamente Necessario Che Anche noi Che facciamo video Su youtube Trasmettiamo Cose positive Cercate sempre Di trasmettere Cose positive Perché Secondo me Un sorriso Una cosa positiva Aiuta il mondo E non vi preoccupate La vostra sessualità Non ferrà influenzata In alcun modo Né da questo video Né dai videogiochi Né da qualunque altra cosa Siete sempre voi stessi Perché siete Bellissimi Esattamente Come siete Al meglio di voi stessi Baci ragazzi Siete sempre